Mister, voglio dirgli solo una cosa, cos'è che è la spinta veramente a scegliere Napoli? Se è una cosa che è nata negli anni o è nata ultimamente perché è stato ingaggiato? No, no, è nata, diciamo che la cosa è stata molto veloce, c'è stato un interesse della società attraverso il presidente, il direttore sportivo, il dottor Chiavelli, sono venuti a parlare con me e penso che è stata una cosa molto rapida, loro non hanno detto che cercavano un allenatore e io ho detto che cercavano una squadra, ci siamo combinati.